Per me puoi vedere come saliamo. Ah, dopo te lo registri me lo mandi. Per registrare cos'è che schiacci... E' come fare le foto, solo che schiacci il volume alto. Se schiacciare il volume basso, schiacci il volume alto. E basta. Il volume alto è quello in mezzo. Ah si, quello piccolino e quello l'altro. Non so io tu come fai a fare questo screenshot. Non lo faccio a screenshot. Se si scioppa non vado mai. Alla fine è andato su. Si. Niente. Non c'era il parcheggio. Ma capito ma quando... Si. Ma io ormai era lì e ho detto stia... Ha fatto la prima rampa di scala e avevo portato solo una. Non c'era il parcheggio. Ma chi è? Non l'ha visto in più. Ma non vai bene. Perché è andato su le scala. Ma non c'è. 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 눈,